Bene, ora ci occupiamo del Giro d'Italia di ciclismo che come sapete vivrà diversi momenti in Abruzzo con ben quattro appuntamenti. Una ghiotta anticipazione dello spettacolo che attende i tanti appassionati sta per concretizzarsi in questi minuti a Pescara con la presentazione delle 22 squadre che partecipano appunto alla Corsa Rosa. Io vedo già in collegamento in diretta da Piazza Salotto a Pescara Enrico Giancarli che saluto e ha con sé un gradito ospite. Buonasera Enrico. Ciao Paolo, buonasera, un saluto a te, un saluto a tutti gli amici che ci guardano in diretta al TG8 in compagnia dell'amministratore delegato di RCS Sport Paolo Bellino che ringrazio per essere qui in diretta con noi. Ci siamo, la grande partenza in Abruzzo manca pochissimo. Sì, ci siamo, direi che tutto sta funzionando bene, oggi fortunatamente abbiamo avuto anche un buon sole, il meteo per i prossimi giorni è un meteo positivo, siamo molto contenti, io personalmente sono molto contento e sono felicissimo di essere qui in Abruzzo per la grande partenza del Giro d'Italia. Pescara, questa sera team presentation, poi la costa dei Trabocchi, Teramo San Salvo si ripartirà da Vasto e ne manca la montagna, si torna il 12 maggio. Io devo dire che il presidente Marsiglio ha avuto una grande visione, ha creduto fortemente alla grande partenza del Giro, devo dire che il progetto è un progetto bellissimo ed è una mini Italia, abbiamo il mare, abbiamo la collina, abbiamo le coste, abbiamo i vigneti e abbiamo una montagna pazzesca, quindi è veramente una bella sfida nella sfida. A Campo Imperatore oggi stanno lavorando da due settimane per portare il Vila Neve, quindi avremo una tappa dal sapore antico con i muraglioni di neve, quindi tutti gli ingredienti sono ottimi ingredienti per un grande successo, perché il piatto e la regione è veramente spettacolare. Chiedo un'ultima cosa, Bellino, l'Abruzzo da anni protagonista nel Giro d'Italia, quest'anno si è superato, ai prossimi anni vorrà esserci ancora. Perché c'è questo bel binomio, Abruzzo RCS, Abruzzo Giro d'Italia? Ma io non guardo in modo campanilistico, il Giro d'Italia è l'Italia, è la corsa più dura nel paese più bello del mondo e l'Abruzzo è sicuramente un pezzo fondamentale del nostro paese, dicevo prima, è una regione piccola ma con una grande potenziale e con delle ricchezze infinite, quindi ci sarà sempre perché è un pezzo dell'Italia importante e io credo che i risultati saranno eccezionali, tra pochi giorni avremo 800 milioni di telespettatori, 200 paesi collegati che vedranno un'Italia fantastica e che dovranno venire a visitare perché quello che si vedrà in questi giorni non lo vedranno più da nessuna parte. Grazie, buon giro a Paolo Bellino, amministratore delegato di RCS Sport. Paolo, io ti vado a raccontare quello che è il programma alle 20.40, la Corratec che è la prima squadra a salire sul palco di Piazza Salotto, l'ultima sarà quella del campione del mondo e del grande favorito del Giro d'Italia, Remco e Venepul che chiuderà la serata. Poi domani ultimo giorno di virgolette riposo e si parte sabato, Costa dei Trabocchi, la cronometro che partirà da Fossacesia Marina per arrivare a Ortona, Porta Caldari, poi la Teramo San Salvo con le ruote veloci protagoniste, si ripartirà da Vasto, destinazione Melfi, si tornerà in Abruzzo venerdì 12 maggio, partenza da Capua, arrivo a Campo Imperatore e lì i big della classifica generale dovranno uscire allo scoperto. Se hai domande Paolo, io ti ascolto, sono a disposizione. Bene così, grazie Enrico Giancarli per questa pagina dedicata doverosamente al ciclismo.